Palazzo Tiene, uno scrigno di opere d'arte dei più grandi maestri di tutti i tempi. Anche oggi noi di Rete Veneta insistiamo con lo Stato perché mantenga la promessa fatta nel luglio del 2017 quando il governo accolse un ordine del giorno in cui si impegnava ad acquisire l'antica sede di BPV e a metterla a disposizione della città del Palladio. Allora come oggi il ministro dei beni culturali era Dario Franceschini a cui noi di Rete Veneta abbiamo recentemente scritto una lettera aperta e a cui anche oggi ci permettiamo di ricordare che questo patrimonio dell'UNESCO è di interesse nazionale. Per dimostrarlo abbiamo già citato le opere dei maestri eterni come il Tintoretto, Jacopo Bassano e Bartolomeo Montagna. Stiamo parlando di esponenti della pittura veneta capace di esprimere una forte influenza in tutto il mondo e i cui maestri erano contesi già in vita nelle più importanti corti europee. Nella collezione di Palazzo Tiene ci sono però anche opere attribuite a pittori non veneti tra cui i toscani Carlo Portelli e Francesco Zuccarelli, il bolognese Giovanni Battista Ramenghi, detto bagna cavallo il giovane, per non parlare di due opere della scuola di Fontainebleau a cui appartengono artisti attivi nella corte di Francia. Un ritratto d'uomo e un profilo allegorico di donna che riprende un disegno che sarebbe attribuito a Michelangelo Buonarroti. Insomma, arte italiana prodotta all'estero. Come non bastasse, Palazzo Tiene, patrimonio dell'UNESCO, è stato progettato da Giulio Romano, il migliore allievo di Raffaello, eseguito da Palladio e decorato con stucchi e sculture dal trentino Alessandro Vittoria. Insomma, sostenere che Palazzo Tiene sia un tesoro artistico e culturale di Valenza Veneta equivalrebbe a rinnegare non solo la valenza internazionale dei grandi maestri veneti, ma anche screditare e dimenticare quegli artisti che dall'estero o da altre zone d'Italia hanno contribuito a costruire il tesoro dell'antica sede di BPV. Insomma, caro governo, caro ministro Franceschini, Cosa serve ancora per farvi mantenere la promessa già fatta nel 2017? Di sicuro noi non ci fermiamo qui, finché lo Stato tiene aperta la questione, anche per noi continua.